Le nostre best friend sono in vacanza al mare. Sembra non esserci nulla più rilassante di questo. La giornata sembra calda e fantastica, ma si sa che il tempo può cambiare da un momento all'altro. Creiamo quindi delle felpe, perché a volte solo il costume non basta. Se fa freddo, bisogna coprirsi con una calda felpa. Andremo a realizzarle grazie a Sbabam, con questo fantastico album di figurine che io in parte ho già completato. Sono le figurine di Hello Kitty, La particolarità è che sembrano delle card. All'interno del pacchetto troveremo sticker, delle card segnalibro, card messaggio, dei tatuaggi, le termocard, card scintillanti, card sagomate. E questo è proprio ciò che fa il caso nostro. Completeremo l'album e in più ci divertiremo a creare. Io adoro Hello Kitty e non vedo l'ora che le mie best friend abbiano delle felpe a tema Hello Kitty. Guardate com'è carino. Purtroppo mi mancano otto figurine per completare l'album. Ma niente paura, penso proprio le ordinerò dal sito della Sbabam. Abbiamo tutti i personaggi. C'è anche la pagina dedicata ai sogni. Ma prendiamo questo contenitore. All'interno io ho inserito le card più particolari. Insomma, gli sticker e i tattoo. Eccoli qui. Voglio provare quindi ad utilizzarli sulla nostra felpa. Poi decideremo quale. Ma guardate quanti. Sono adorabili. Prendi un vecchio calzino. Un calzino che non ti servirà più. Lo andiamo a piegare. In questo modo. Ora teniamo questa parte che ha la cucitura. Ma andiamo a tagliare qui. Avremo quindi questa forma. E qui c'è la parte finale del calzino. Prendiamone un liceus. Misuriamo. Questa sarà la parte finale della felpa. Quindi taglieremo più o meno a questa altezza. Proviamo. Ecco fatto. Se è ancora troppo lunga, accorciamo. Abbiamo il segno delle sue braccia. Niente paura. Facciamo dei tagli. In questo modo e di qua. Ok, ci siamo. Ma va chiuso tutto. O perlomeno le maniche. Togliamo. E vado a tagliare ancora un pochino. Tagliamo così. E anche di qua. Ed ecco, vi ritrovate con questa forma. Ora, chi vuole, può cucire. Chi non sa cucire, può usare la colla a caldo. Vado a mettere quindi la colla a caldo lungo questa parte. E chiudo. Ovviamente si può cucire, ripeto. La parte della manica la lascio un po' aperta. Mettiamo la colla anche qui. Insomma, andiamo a chiudere tutti gli spazi. Ed ecco la nostra neollicius, pronta ad indossare la bozza della nostra felpa. Perché ancora non è finita. Ed ecco una calda felpa per neollicius. Ma dobbiamo renderla in stile e lo chitti e poi rifinirla. Quindi togliamola. Prendiamo uno dei nostri sticker o tatuaggi. Vediamo che cosa si addice a neollicius. Wow, queste ciambelle sono favolose. Prendo questa immagine. Tolgo la pellicola. Appoggio. Con un panno vado a bagnare l'immagine. La bagno per bene. Vado a grattare l'immagine con le unghie. Devo proprio grattarla per far sì che si stacchi dalla base. Questo perché non la stiamo incollando alla pelle. Quindi la stiamo incollando in una superficie che non è propriamente adatta. Ora solleviamo ed ora appena vediamo il tattoo dobbiamo tenerlo così e farlo aderire alla nostra felpa. Dobbiamo essere noi quindi a scollarlo pian piano con le dita. Così. Andate a piccoli passi. Ok, ora il disegno non dovete più toccarlo finché la maglia non si asciuga o si scollerà tutto. Quindi mettiamolo da parte, anzi mettiamolo al sole ad asciugare. Facciamo le felpe anche per le altre best friend. Faccio quello che ho fatto prima, quindi vado a tagliare. Prendo Royal. Misuro la lunghezza. Più o meno qui. In realtà ora volendo possiamo già tagliare le maniche. Basta fare questi tagli ai lati. Incolliamo e gliela facciamo indossare. Per Royal. Per Lady Diva. E questa è per Swag. Ricordatevi di non toccare con le dita il disegno, il tatuaggio. Ecco le nostre felpe asciutte. Prendiamo lo smalto trasparente. Lo passiamo su tutta la nostra immagine. Ecco Swag con la sua felpa e l'occhetti. Un look davvero sportivo. Lady Diva. Con la sua felpa da vera regina. Neolicious. Adora la comodità e il colore. E il Royal. Ma ora vediamo nello specifico quest'album. È un album perfetto per delle best friend. Questi siamo noi, siamo uniti, ci vogliamo tanto bene ed insieme viviamo mille avventure. Lo sapevate che l'occhetti abita con la sorella gemella Mimi? Ed abitano a Londra. Lei è My Melody. Adora i dolci alle mandorle ed è affezionata al cappuccio rosso che la nonna ha confezionato per lei. Ecco perché lo indossa sempre. Il ranocchio si chiama Cheroppi. Abita vicino Donut Pond con la sua famiglia. Questo qui simpatico è Bad Buds. Un pinguino. Questi sono i Little Twin Star. Kiki e Lala. Sono delle stelle gemelle, nate sulla stella Omo Iari. Questa è l'amico orsacchiotto di Hello Kitty. Hello Kitty con la sua amica My Melody. Questa card è tutta glitterata e Hello Kitty ci dice, mi fate arrossire. Avere tanti amici e poter condividere mille emozioni è la cosa più bella del mondo. Vicini, lontani, uniti o distanti, non esiste nulla che possa affermare la forza dell'amicizia. Qui Hello Kitty si sente una regina. Ma che cosa fa? Sta baciando Cheroppi. Sì, qui c'è proprio la scritta Love. È nato un amore. E qui, messaggi d'amore. Che bello mandare messaggi ai nostri amici. Cosa c'è più bello di dire loro che sono importanti per noi. E infatti Cheroppi ha ricevuto un biglietto d'amore. Che cosa dice quel biglietto? È Hello Kitty che gli dice, mi manchi. A quanto pare Hello Kitty è innamorata di Cheroppi. Qui si gioca con gli amici. C'è chi vola su una stella. O chi si diverte al mare. E qui si cucina tutti assieme. Si fanno tante torte fatte in casa assieme agli amici. Ma c'è anche il tempo per fare dei party. Guardate come si diverte Bad Bazz. E le nostre stelle gemelle. Ma ovviamente ci si fa anche dei selfie. Guardate che carini. Hello Kitty con Bad Bazz. E qui Hello Kitty con Cheroppi. Proteggi la natura. I nostri amici amano la natura. Tutti uniti dobbiamo impegnarci a proteggerla. Esploriamo il mondo. Come vi ho detto Hello Kitty vive a Londra. Bad Bazz che si lancia con il paracadute. Qui sono in viaggio tutti assieme dove stanno andando in vacanza. Bad Bazz a quanto pare non voleva andare con loro ma Hello Kitty l'ha trascinato. E qui che bello sognare. La giornata è stata lunga. Hello Kitty e i suoi amici hanno vissuto un sacco di avventure. E ora è arrivata l'ora di fare la nanna. Buonanotte. Grazie quindi alla Svabam che ci ha inviato gratuitamente l'album con tutti gli sticker. Lo trovate in edicole. Come vedete possiamo utilizzarlo per collezionare le nostre figurine ma anche per i nostri tutorial. Un abbraccio invenso. Ciao! 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 Ciao!